Qin Shi Huang, il cui nome originale era Ying Zheng, divenne re dello Stato di Qin all'età di 13 anni. Con l'aiuto dei suoi abili consiglieri, lo Stato Qin riuscì a conquistare, uno dopo l'altro, gli altri stati in competizione. Queste vittorie successive hanno permesso a Ying Zheng di proclamarsi primo imperatore della Cina. La sua ascesa al potere non fu solo il risultato di successi militari. Qin Shi Huang introdusse anche riforme amministrative e burocratiche significative. Ad esempio, standardizzò le misure, la scrittura e la valuta, facilitando la comunicazione e il commercio in tutto l'impero. Inoltre, ordinò la costruzione di una serie di infrastrutture, tra cui una versione iniziale della Grande Muraglia, per proteggere i suoi nuovi territori dalle invasioni delle tribù nomadi del nord. Qin Shi Huang è anche ricordato per il suo stile di governo autoritario e alcune decisioni controverse. Ad esempio, per sopprivere le idee contrarie e consolidare il suo potere, ordinò il famoso rogo dei libri e perseguitò molti intellettuali. Qin Shi Huang ha gettato le basi per un impero centralizzato e unificato che avrebbe durato, con varie interruzioni, per i successivi due millenni.